Buonasera a tutti, ci fa molto piacere come sempre passare questi scampoli di tempo insieme. Come anticipava Enzo, l'obiettivo di oggi è quello di condividere un po' di nostre riflessioni su quello che è lo stato attuale dell'operare delle aziende sulle tematiche ISG, secondo le prospettive che ha già anticipato Enzo, e capire insieme in una vera e propria sessione di lavoro congiunta quali siano le esigenze oggi dei consigli di amministrazione e quali siano le esigenze prospettiche. Ovviamente noi abbiamo raccolto le nostre esperienze e approfondito, come siamo soliti fare, una serie di tematiche attraverso l'analisi del mercato esterno, ma naturalmente è preziosissimo il contributo che ci potrete dare voi anche per testare e interpretare il nostro punto di vista su queste tematiche. Pertanto lascerei subito la parola a Elena per chiedervi il primo contributo con riferimento al primo macrotema che ha citato Enzo, quindi il contesto generale in cui si stanno muovendo oggi le aziende sulle tematiche della sostenibilità. Buonasera a tutti, come anticipato poc'anzi da Enzo e da Sara desideriamo che questa sia una sessione di lavoro molto aperta e abbiamo pensato di supportare la discussione attraverso l'introduzione di alcune domande riferite alle cinque prospettive che ha illustrato Enzo, su cui è stato strutturato questo nostro primo appuntamento sulla sostenibilità. A questo proposito vi invito ad accedere alla chat dove trovate i link per partecipare alla Instant Survey. Chiaramente le risposte sono su base anonima e sono utili ad avere degli elementi di discussione nella sessione odierna. Quindi nello specifico vi chiederei la gentilezza di cliccare ora sul primo link che si chiama 1, contesto, per dare la vostra opinione su quello che ritenete sia il livello di avanzamento delle strategie ISG e il grado di maturità delle aziende nel panorama italiano su queste tematiche. In particolare la domanda è quella che vedete appunto sullo schermo ed è la seguente. In base alla sua esperienza come membro di un consiglio di amministrazione Comitato Sostenibilità, come valuterebbe il livello di maturità e proattività delle aziende del contesto italiano sui diversi, sui temi di sostenibilità? Prima risposta, siamo ancora molto lontani dal saper affrontare questi temi con efficacia e convinzione. Seconda, le aziende hanno avviato faticosamente un percorso di sostenibilità ma manca ancora una strategia coerente rispetto al purpose aziendale. Terza, c'è una crescente attenzione ai temi ISG dovuta alla necessità di adeguarsi alle aspettative e alle pressioni esterne più che a un reale commitment. Quattro, le aziende stanno lavorando molto per gestire la sostenibilità garantendo un buon livello di integrazione con la strategia di business. Ultima risposta, la sostenibilità è un tema realmente integrato nella strategia aziendale ed è insita in tutto quello che facciamo. A questo punto vi chiederei di selezionare la risposta che desiderate e di premere su submit che trovate alla fine delle cinque domande. Vi lasciamo qualche secondo per procedere alla votazione. bene, direi che sono arrivate diverse risposte possiamo quindi procedere a analizzare quello che è emerso e la situazione sembra abbastanza variegata dove il 31% di voi ha risposto che le aziende stanno lavorando molto per gestire la sostenibilità garantendo un buon livello di integrazione con strategie aziendali. Allo stesso modo un 31% ritiene che ci sia una crescente attenzione ai temi ISG dovuta alla necessità di adeguarsi principalmente alle aspettative delle pressioni esterne. poi il 19% rispettivamente risponde che la sostenibilità è un tema realmente integrato a una strategia aziendale ed è insita in tutto quello che fate il restante 19% ritiene invece che le aziende abbiano avviato un percorso faticosamente di sostenibilità ma che manchi ancora una coerenza intrinseca rispetto a quello che è il purpose aziendale. Quindi questo punto di vista come detto è abbastanza variegato. Noi avevamo condotto uno studio preliminare sulla sostenibilità da cui è emerso che senz'altro è un tema crescente e di interesse comune e c'è un fortissimo commitment nei confronti di quello che attiene tutto il mondo ISG ma questo parrebbe più riferito alla necessità delle aziende di mostrarsi pienamente conformi rispetto ai requisiti regolamentari ai desiderata degli investitori istituzionali e in generale le pressioni dell'opinione pubblica. Quindi seppur le aziende stiano lavorando da anni e con serietà e anche con crescente consapevolezza di rischio e opportunità sui temi ISG, in alcuni casi è emerso che manca ancora una reale integrazione organica della strategia ISG con la strategia di business. Quindi a questo punto lascerei la parola a Sara per un commento più approfondito di quello che è emerso nel nostro studio. Grazie Elena. Allora devo dire che le evidenze e le vostre risposte ci confortano, tra virgolette, perché trovano rispondenza anche alla nostra esperienza e nelle evidenze che abbiamo raccolto attraverso un po' di approfondimenti. Quindi sostanzialmente quello che noi abbiamo riscontrato è sicuramente una crescente consapevolezza a parte dei consigli di amministrazione che queste siano delle tematiche di estrema importanza, ma allo stesso tempo ancora un percorso faticoso nella reale integrazione della strategia ISG e della strategia di business il tutto all'interno di quello che è il purpose ultimo dell'azienda. In particolare, per dare due bit di maggiore approfondimento, confermato questo primo statement cioè che in molti casi l'impegno sulla sostenibilità sia quantomeno una fase iniziale trainato e simulato da esigenze di risposta a delle sollecitazioni esterne che siano un tema di reputazione, di immagine, di vincoli normativi, di investitori, eccetera, eccetera. È anche vero, questo è emerso dalle vostre risposte, che non è così sempre ed ovunque. Quindi c'è un livello di maturità variegato su queste tematiche che spesso è collegato al settore di appartenenza. Quindi abbiamo visto che quelle industrie, tipo ad esempio il settore dell'energia dove i rischi e le opportunità connessi ai temi di sostenibilità sono strettamente inseriti nel business di riferimento il livello di integrazione e di maturità delle aziende su questi temi è molto più avanzato. In altri settori, e questo lo approfondiremo facendo alcuni link logici anche più avanti troviamo certamente degli indicatori, delle aree di sostenibilità anche utilizzate ad esempio all'interno delle strutture retributive dei vertici ma sembrano avere un livello di connessione col business un pochino più remoto. e una cosa che sperimentiamo con buona frequenza lavorando con i clienti è che tendenzialmente sembra essere prassi abbastanza diffusa il fatto di costruire i piani strategici in una fase diciamo antecedente alla definizione dei piani di sostenibilità dove questi ultimi poi certamente trovano la loro integrazione su dei punti di contatto ma non sono nativamente integrati nei piani strategici, nei piani industriali. Perfetto, a questo punto rilasciamo la parola a voi per andare a capire cosa pensate con differimento alla seconda tematica che ci aveva proposto Enzo, quindi quella relativa alle competenze. Sì, allora un secondo approfondimento che desideriamo fare riguarda proprio le competenze in capo ai membri dei consigli di amministrazione ma anche ai comitati che si occupano di sostenibilità al fine di gestire non solo con consapevolezza i rischi e i benefici legati alla sfera ESG ma anche di affrontare in maniera proattiva le sfide future che si presenteranno rispetto a questa materia che come sappiamo è molto sfaccettata e anche in continua evoluzione. Quindi di nuovo in chat troverete il link alla seconda domanda che si chiama due competenze vi pregherei di cliccare su questo link e la domanda è la seguente In base alla sua esperienza come membro di un consiglio di amministrazione comitato di sostenibilità come valuterebbe il livello di competenze dei membri del consiglio di amministrazione con riferimento alle tematiche ESG? 1. Esiste un divario significativo tra le competenze in possesso dei consiglieri e le competenze necessarie a presidiare i diversi temi ESG? 2. È stato intrapreso un percorso formativo sui temi ESG ma siamo ancora lontani dal colmare il divario? 3. I consiglieri sono in possesso di un sufficiente bagaglio di competenze e esperienze per gestire i temi di sostenibilità 4. I consiglieri sono in possesso di un buon bagaglio di competenze e esperienze per gestire in modo appropriato le complessità legate ai temi ESG 5. Ci sono esperienze tecniche e distintive da parte di consiglieri che assicurano un presidio adeguato e proattività per gestire le sfide future ESG anche in questo caso vi pregherei di cliccare sulla risposta che preferite e premere sul tasto Summit per consentirci l'elaborazione dei risultati vi lascio alcuni secondi per votare Allora direi che ci siamo possiamo passare all'elaborazione dei risultati Allora anche qui abbiamo delle risposte alcuni votanti che esprimono che è stato essere intrapreso un percorso formativo sui temi ESG ma siamo ancora lontani dal colmare il divario Al contrario altri membri di consigli di amministrazione e di comità di sostenibilità ritengono di essere in possesso di un sufficiente bagaglio di competenze ed esperienze per gestire i temi di sostenibilità In maniera residuale vengono espresse altre valutazioni Quindi questo è abbastanza in linea rispetto a quello che avevamo catturato avevamo captato dalle nostre osservazioni sulle analisi che abbiamo svolto precedentemente quindi non si discosta molto rispetto a queste nostre prime osservazioni sulla stessa prospettiva di analisi Quindi riteniamo che ci sia maggiore consapevolezza della diversità del know-how necessario per presidiare questi temi da un lato però in base agli studi preliminari che abbiamo fatto è stato sollevato anche un forte need di arricchire il bagaglio di competenze dei CDI e dei comitati che si occupano proprio di sostenibilità al fine di coprire degli aspetti molto tecnici e complessi che interessano specialmente la sfera ambientale ma anche le technicality relative alla gestione della sfera people E a questo proposito di nuovo lascio la parola a Sara per un approfondimento su questo nostro studio Grazie Elena Allora innanzitutto vorrei fare un'osservazione che riguarda la lettura congiunta delle risposte che avete dato adesso su questa domanda e quello che è emerso prima sul contesto generale perché mi sembrano molto coerenti come articolazione delle risposte nel senso che c'è una convergenza di valutazione di un buon livello di copertura insieme a un livello medio che richiede ancora un approfondimento Questo come anticipava Elena è molto coerente con quello che è la nostra percezione e la nostra esperienza quindi sicuramente a livello di consigli di amministrazione è in crescita la consapevolezza della complessità della materia della sostenibilità di quanto debbano essere multidisciplinari e profonde le competenze che consentono di indirizzare, monitorare in modo completo le tematiche di sostenibilità Per quanto riguarda le strutture aziendali ovviamente sono per loro natura già strutturate per verticali di competenza quindi forse è un pochino più automatico ma bisogna fare attenzione a nostro avviso ad un dischio cioè a evitare che queste competenze non rimangano nella loro dimensione verticale ma producano tutto il loro valore attraverso la loro integrazione e il loro coordinamento Un elemento importante che è emerso rispettivamente alle competenze è non soltanto la multidisciplinarità e in alcune dimensioni il livello di tecnicismo ma è anche la continua evoluzione di queste competenze rispetto a cui non è semplice stare costantemente aggiornati e quello che abbiamo raccolto di nuovo attraverso la nostra indagine di mercato è un po' un'esigenza di maggiore supporto rispetto al consolidamento e all'evoluzione in generale delle competenze che afferiscono l'ambito della sostenibilità che mi sembra sia un'evidenza che trovano coerenza con quello che ci avete appena confermato anche voi E a questo punto passerei all'indagine sulla terza area tematica rilasciando la parola a Elena Bene, a questo punto vorremmo raccogliere il vostro punto di vista sul tema di accountability del CDI e dei suoi comitati endoconsigliari sulla sostenibilità e valutare insieme quale ritenete sia l'assetto di governance e la ripartizione di compiti più appropriata o meglio più efficace nel contesto italiano per gestire i temi ESG Quindi in chat nuovamente trovate un link che si chiama 3 Accountabilities che vi chiederei di aprire e qui trovate la domanda che stiamo appunto proiettando In base alla sua esperienza come membro di consiglio di amministrazione e comitato di sostenibilità quale modello di governance ritiene sia più efficace a gestire adeguatamente la sfida e della sostenibilità? 1. Le discussioni e le decisioni ESG dovrebbero essere unicamente in capo al consiglio di amministrazione 2. È opportuno avere un comitato ad hoc dedicato alla sostenibilità 3. I temi di sostenibilità devono essere gestiti dal comitato che si occupa di controlli interni e rischi 4. I temi di sostenibilità possono essere efficacemente gestiti nell'ambito di altri comitati esistenti con una chiara ripartizione dei ruoli Anche in questo caso vi chiedo di selezionare la risposta che desiderate e premere su submit per consentire l'elaborazione delle informazioni Lascerei ancora qualche domanda e qualche secondo per votazione Bene, direi che ci siamo Possiamo passare a visualizzare i risultati Quindi il 60% qui c'è una netta preferenza per la risposta che è opportuno avere un comitato ad hoc dedicato alla sostenibilità Il 33% invece ritiene che i temi di sostenibilità possono essere efficacemente gestiti anche nell'ambito di comitati già esistenti Solo il 7% ritiene che i temi di sostenibilità debbano essere gestiti dal comitato che si occupa di controlli interni e rischi Nessuno invece ritiene che i temi di sostenibilità debbano essere affrontati unicamente nell'ambito del consiglio di amministrazione nel suo complesso Ora, guardando questi risultati emerge che appunto la maggior parte di voi ritiene che avere un comitato ad hoc dedicato alla valutazione delle istruttorie e della sostenibilità abbia molto valore sia la configurazione di governance più appropriata e questa considerazione è anche in linea rispetto a quanto che abbiamo osservato nei nostri precedenti studi in cui abbiamo registrato generalmente un'opinione che avere il comitato, un comitato ad hoc di sostenibilità consente di affrontare con la necessaria profondità e anche competenza temi complessi ma allo stesso modo rappresenta anche uno stimolo e una sorta di spinta propulsiva per affrontare questi temi anche in maniera innovativa Di nuovo lascio la parola a Sara per approfondire questo aspetto Grazie Lea Allora, prima di andare a vedere effettivamente quello che abbiamo riscontato sul mercato e anticipo che abbiamo fatto questa analisi rispetto alle 40 aziende nostre grandi dell'indice Fuzzimib Volevamo mettere per qualche minuto prima a fuoco quali sono in generale i modelli che abbiamo riscontrato sul mercato o che sono diciamo appunto riconducibili a diverse modalità di allocazione delle accantabilities con riferimento alla sostenibilità Allora, il primo modello fondamentalmente vede l'intero CDA responsabile tra virgolette delle tematiche della sostenibilità quindi per dirle in una maniera diversa le tali tematiche non sono diciamo allocate tra virgolette nelle competenze di comitati endoconsigliari e questo tendenzialmente accade nelle aziende che hanno già un elevato livello di maturità sui temi della sostenibilità e tali tematiche, tali diciamo elementi fanno parte naturalmente dei processi decisionali del board Un secondo modello è quello che prevede l'assegnazione delle accantabilities relative ai temi di sostenibilità a un comitato esistente, quindi a uno dei comitati endoconsigliari già esistenti in azienda Questo accade a nostro parere qualora si sia identificato nell'ambito di un comitato esistente è un nucleo di competenze già diciamo strutturato e presente per presidiare queste tematiche di sostenibilità Tra l'altro questa è una prassi estremamente frequente nel mondo americano dove tendenzialmente le tematiche di sostenibilità sono seguite direttamente dal comitato audit evidentemente favorendo una stretta interconnessione con tutta la parte di analisi, gestione e monitoraggio dei rischi Il terzo modello prevede invece, come anticipava Ellen, è quello che vedremo essere maggiormente diffuso sul nostro mercato italiano e tra l'altro ci avete confermato anche il vostro punto di vista con le risposte appena date Quindi terzo modello, un comitato autonomo ad hoc, cioè il nostro tra virgolette comitato sostenibilità che certamente è un elemento che consente, cioè una strutturazione che consente di avere un livello di focalizzazione molto elevato e che consente anche di sollecitare e stimolare il consiglio di amministrazione con una certa intensità Certamente bisogna stare un pochino attenti, come dire, maneggiare con cautela perché bisogna trovare comunque la modalità affinché tale comitato lavori in stretto coordinamento e integrazione con gli altri comitati andoconsigliari e sia contemporaneamente vicino e inserito in tutte le altre discussioni importanti d'azienda che riguardano temi strategici, temi finanziari, temi relativi alle persone Questo certamente può essere fatto attraverso la previsione di consiglieri che siedono in diversi comitati Non è semplice comunque, non sempre accade, diciamo Non sempre si raggiunge l'obiettivo del pieno coordinamento Quarto modello è la ripartizione delle tematiche di sostenibilità tra comitati esistenti quindi non ad un solo comitato esistenti ma tra i diversi comitati esistenti che vanno a seguire in funzione delle proprie competenze specifiche i diversi filoni della sostenibilità Ecco, non c'è un approccio univoco anche se vedremo la prevalenza del mercato italiano e molto dipende certamente dal livello di maturità delle aziende su queste tematiche dipende dal business, dipende dalle competenze presenti nell'ambito del consiglio di amministrazione quindi da una serie di variabili Andando a quantificarvi più dettagliatamente quello che succede sul mercato italiano vi diciamo che la struttura, quindi la soluzione più frequente è quella dell'istituzione di un comitato sostenibilità DOC ripeto, abbiamo mappato le 40 aziende del Fuzzimib andando anche ad analizzare, come vedremo successivamente nel dettaglio tutti i regolamenti di tutti i comitati endoconsigliari quindi non soltanto dei comitati sostenibilità quindi come abbiamo già detto un solo comitato sostenibilità focalizzato solo su quello certamente amplifica diciamo l'effort su queste tematiche è fondamentale che ci sia un livello di interazione importante di questo comitato con altri comitati pensiamo banalmente all'interazione col comitato demunerazione quando si deve parlare di schemi di incentivazione di come questi debbano accogliere la dimensione della sostenibilità come obiettivo importante dell'azienda e del top management ma naturalmente anche con riferimento al comitato controllo e rischi che gestisce tutti i rischi compresi quelli legati alla sostenibilità evidentemente come avvengono queste interazioni come sono regolate tra virgolette queste interazioni con buona frequenza troviamo diciamo una regolamentazione formale di queste interazioni ma quando anche non ci sono vediamo che vi è lo sforzo certamente di trovare dei punti di lavoro congiunto tipicamente attraverso delle riunioni con partecipate da più comitati facendo anche un'osservazione su quello che invece riguarda non il consiglio di amministrazione ma la struttura aziendale la struttura proprio organizzativa della società tante volte ci troviamo coinvolti nella valutazione di dove sia più corretto posizionare organizzativamente la responsabilità che afferisce le tematiche di sostenibilità e sicuramente è un tema dibattuto ma devo dire che con larga frequenza e insomma con oggettivo razionale le strutture che si occupano di sostenibilità sono collocate all'interno della struttura finance del CFO cosa che naturalmente consente una maggiore vicinanza ed osmosi rispetto alle tematiche di strategia alle tematiche di risk management così come a tutto il processo di valutazione e monitoraggio delle performance faccio ancora un passo avanti sui numeri questa è la fotografia rispetto alle anticipazioni di come gestiscono i temi della sostenibilità a livello di board le 40 aziende più grandi italiane poco più del 50% adottano un comitato sostenibilità a se stante circa un terzo invece assegna diciamo le accountability in materia di sostenibilità al comitato controllo e rischi una diciamo parte residuale quindi quattro società associano diciamo le responsabilità sostenibilità al comitato che si occupa anche di nomine di governance due società non hanno allocato dal cui comitato è do consigliare queste responsabilità quindi potremmo supporre che sia una tematica gestita complessivamente a livello di consiglio di amministrazione ultimo deep dive su questo tema su cui ci aiuterà anche Diego allora io leggo soltanto i numeri e poi lasciamo a Diego diciamo le considerazioni e il commento allora queste informazioni sono state tratte come anticipavo dai regolamenti dei comitati endoconsigliari siano essi comitati sostenibilità comitati controllo e rischi che si occupano anche di sostenibilità eccetera eccetera allora l'istogramma ci restituisce la frequenza con cui troviamo tali accountability all'interno dei comitati che si occupano di sostenibilità dove in sintesi se noi guardiamo i primi tre le prime tre barre appunto facendo sintesi diciamo possiamo dire che quasi sempre i comitati sostenibilità si occupano della diciamo dell'indirizzo quindi della definizione delle della strategia in ambito sostenibilità della sua attuazione monitoraggio e delle attività che riguardano tutta la sfera del reporting con una frequenza inferiore quindi nell'intorno del 40% troviamo come accountability anche l'attivazione nei confronti degli stakeholder e la valutazione dell'inserimento del posizionamento dell'azienda all'interno degli indici di sostenibilità in maniera assolutamente direi residuale altre tematiche come cosa fa il mercato quali sono le best practice c'è un confronto con l'esterno piuttosto che tematiche un pochino più ampie quindi che possono riguardare tutti i dipendenti piuttosto che i nostri cari sistemi di incentivazione per il top management lascio la parola a Diego per un commento e delle considerazioni su questo grazie Sara buon pomeriggio a tutti qui un commento rapido su un po' un'esperienza l'esperienza concreta di quello che si vede in questa pagina se è vero da una parte che la gran parte dei comitati ha come obiettivo principale definizione attuaggio e monitoraggio delle strategie di sostenibilità è anche vero dall'esperienza che ci sono delle opportunità ulteriori da cogliere proprio come spinta dei comitati rispetto alle attività del management in ambito sostenibilità e questa spinta può riguardare, quello mi viene in mente, tre principali aspetti il primo è far riferimento all'opportunità di spingere le organizzazioni verso analisi verticali in ambito climate risk e natural risk che siano allineate alla standard e best practice pensiamo alla TCFD o TNF questo al fine anche di valutare gli impatti di tali rischi sulle attività delle organizzazioni per porre in essere azioni remediation allineate con il piano degli investimenti si è parlato prima del posizionamento del comitato sostenibilità e dell'interrelazione col comitato controllo e rischi uno degli aspetti probabilmente di maggior sinergia è l'integrazione che ci può essere degli aspetti di sostenibilità con quelli rischi rischi prevedendo in particolare anche uno stimolo verso analisi su rischi strategici di lungo periodo per identificare quali possono essere tematiche di rischio che possono impattare appunto nel lungo periodo includendo elementi di adattamento e mitigazione ai rischi ESG quindi pensiamo ai rischi climate in particolare ai rischi di transizione più in generale è opportuno prevedere anche una spinta verso la correlazione tra strategie, rischi e sostenibilità su invece le accountability meno citate nei regolamenti delle organizzazioni oggetto di indagine mi sento di porre l'accento su un aspetto che si è evidenziato prima ovvero quanto i comitati di sostenibilità spingono le organizzazioni a capire anche quali sono le best practice i trend di mercato ma anche di altre industrie con riferimento alle tematiche ESG questo per spingere sempre più verso il miglioramento di processi e strumenti di sostenibilità quindi probabilmente quello che è opportuno comprendere su cui ci fa riflettere questa pagina è appunto una riflessione su quali siano effettivamente i compiti, gli strumenti, le metodologie in mano ai comitati di sostenibilità per guidare il cambiamento e l'implementazione delle tematiche di sostenibilità grazie, grazie mille Diego e tra l'altro diciamo ci dai proprio là per lanciare il quarto sondaggio che insiste su un tema sicuramente delicato a mio parere ma l'hai citato anche tu che sono gli strumenti a disposizione dei comitati di sostenibilità quindi rilascio la parola a Elena Sì, come quarta domanda vorremmo raccogliere il vostro punto di vista rispetto alla disponibilità di strumenti, di metodologie, informazioni che consentono agli addetti ai lavori di gestire questi temi ESG in maniera organica, strutturata e anche possibilmente semplice pertanto di nuovo vi rivolgiamo una domanda a cui potete accedere attraverso il link presente in chat che è il quarto, si chiama quattro strumenti quindi accedendo nuovamente all'istanza survey e trovate questa domanda che vi leggo Ritenete che i comitati di sostenibilità e le strutture interne abbiano gli strumenti per svolgere efficacemente il loro lavoro? 1. No, mancano gli strumenti sia a livello di comitato che di funzioni aziendali competenti anche in considerazione del budget molto limitato 2. No, il comitato è poco orientato a confrontarsi con l'esterno e fa leva principalmente sulle informazioni elaborate alle strutture interne competenti 3. Sì, esistono strumenti delle funzioni aziendali o della consulenza ma non sono pienamente adeguati a gestire gli ESG con eccellenza e innovazione 4. Sì, il comitato fa affidamento a un set di strumenti che ne supportano lo svolgimento di compiti trend di mercato, supporto alla definizione della strategia, regolamentazione, eccetera Di nuovo vi chiedo di scegliere la vostra risposta e premere Summit Vi lascio qualche secondo per la votazione Direi che possiamo visualizzare i risultati Allora, qui abbiamo un 50-50 c'è un 44% di voi che ritiene che esistono strumenti elaborati principalmente dalle funzioni aziendali e dalla consulenza ma non pienamente adeguati a gestire le tematiche ESG con eccellenza e innovazione e un altro 44% che prevede che il comitato sia poco orientato a confrontarsi con l'esterno fa leva principalmente ad informazioni che provengono dalle strutture interne Il restante 12% è equamente ripartito tra Sì, il comitato fa affidamento a un set di strumenti che supportano svolgimento dei compiti e no, mancano completamente gli strumenti Quindi anche in questo caso vediamo un sostanziale allineamento rispetto a quello che è stato il nostro studio preliminare in cui era emerso che ci sono diverse fonti informative ma apparentemente senza un fil rouge che aiutasse a gestire questa quantità significativa di informazioni in maniera strutturata Quindi lascio di nuovo a Sara la parola per un approfondimento a riguardo Grazie Elena Dunque, sì, confermo che sostanzialmente le nostre evidenze e direi in questo caso la nostra esperienza e naturalmente poi Diego anche lato suo tra virgolette potrà integrare ci ritorna questa fotografia che certamente le aziende si stanno muovendo sui temi della sostenibilità quindi non sono totalmente privi di informazioni, di processi ma si sente l'esigenza e anche noi, devo dire, lavorando con un po' di consigli di amministrazione notiamo a volte un pochino di fatica che deriva appunto dal fatto di avere certamente molte informazioni che però non sempre sono razionalizzate che sono prevalentemente informazioni che arrivano dall'interno dell'azienda giustamente, certamente, non può che essere così ma c'è un tema di certificazione del dato c'è un tema di confronto col mondo esterno e c'è anche un tema di completa comprensione delle alternative con cui si possono analizzare e gestire determinate tematiche funzionali ad una scelta consapevole dell'indirizzo poi da prendere quindi questa è un pochino, diciamo, l'evidenza che abbiamo quindi se mi consentite di fare un piccolo collegamento degli strumenti con le competenze certamente competenze e conoscenza degli strumenti di dettaglio tecnico non stanno in capo al consiglio di amministrazione ma il consiglio di amministrazione naturalmente come per tante altre tematiche deve poter essere messo nelle condizioni di comprendere e laddove necessario di fare challenge anche alle strutture interne rispetto alle proposte che riceve anche in questo caso abbiamo, diciamo, raccolto una sensazione o comunque una necessità di avere occasioni di approfondimento e di maggiore acquisizione di comprensione, di competenze sulle tematiche della sostenibilità e dobbiamo dire in alcuni casi anche un pochino di dispiacere diciamo così di rammarico circa le risorse e la disponibilità di budget proprio a disposizione dei comitati di sostenibilità per riuscire a, anche banalmente, andare a guardare verso l'esterno quindi questo è un pochino per quello che riguarda gli strumenti direi che stiamo abbastanza in linea con quello che ci state raccontando voi fino adesso quindi per l'ultimo sforzo che vi chiediamo rilascio la parola a Elena per indagare l'ultima dimensione che è quella della sfera people Sì, appunto, fatta tutta questa panoramica su contesto su accountability, su livello di competenze e anche sulla sofisticazione degli strumenti vogliamo farvi l'ultima domanda prometto che è l'ultima su un tema che a noi è molto caro che si riferisce alla sfera people in particolare a livello di coinvolgimento dei comitati che si occupano anche di tematiche ESG nella definizione e nella valutazione di una strategia di human capital management quindi se entrate di nuovo in chat vi pregherei di cliccare sull'ultimo link che si chiama Sfera People qui trovate questa domanda in base alla sua esperienza come membro di un CDA comitato sostenibilità qual è il livello di coinvolgimento del comitato che si occupa di sostenibilità rispetto a ciò che attiene alla sfera people e allo human capital management 1. non entra in queste tematiche che sono demandate integralmente ad altri comitati ad esempio comitato remunerazione e o le funzioni aziendali competenti 2. è talvolta sollecitato da altri comitati e o dalle funzioni aziendali competenti nella definizione di aspetti legati alla sfera people 3. è parte attiva nella definizione di una strategia human capital management e supporta il CDA, gli altri comitati e le funzioni aziendali nella gestione dei temi people che in questo caso vi lascio un po' di tempo per la votazione bene direi che possiamo passare nell'elaborazione dei risultati allora il 43% di voi ha risposto che il comitato che si occupa anche di temi di sostenibilità è talvolta sollecitato da altri comitati e delle funzioni aziendali competenti nella definizione di aspetti legati alla sfera di human capital management il 36% invece ritiene che sia parte attiva nella definizione della strategia human capital management che sicuramente supporta il CDA e gli altri comitati nella gestione dei temi people il 21% invece ritiene che non entra in queste tematiche sono demandate principalmente ad altri comitati o alle funzioni aziendali interi qui la situazione è abbastanza variegata nuovamente e si scosta un po' da quelle che erano le nostre risultanze riferite agli studi preliminari dove invece è remerso che i comitati che si occupano di sostenibilità lambiscono un po' i confini dello human capital management che però rimane un tema gestito principalmente da funzioni aziendali interne è però molto interessante considerare anche che ormai ci muoviamo in un nuovo contesto in cui alcuni investitori istituzionali stanno sollecitando il CDA affinché adottino un approccio solido sullo human capital management e di nuovo lascio la parola a Sara per l'approfondimento su quest'ultima dimensione grazie Elena allora sul tema eccoci qua, scusate ok allora cosa possiamo dire sulla sfera people che sicuramente l'importanza di tutte le tematiche connesse alla sfera people e alle dimensioni di sostenibilità connessi alla sfera people e in particolare alla dimensione employee sicuramente molto cresciuta e lo testimonia il fatto che negli ultimi anni con riferimento alle nostre grandi aziende italiane siano costantemente aumentati gli indicatori collegati a tali dimensioni nell'ambito dei sistemi incentivanti del top management sia di breve che di lungo termine poi vedremo che come avevamo osservato all'inizio parlando del contesto in molti casi vi sono tipicamente degli indicatori che ricordano con maggiore frequenza che sono la sicurezza sul lavoro sui piani di breve termine e il gender balance su quelli di lungo termine e su questo poi magari qualche domanda ce la possiamo fare quello che è certo è che le aziende si stanno diciamo rendendo conto vi state rendendo conto insomma ma ormai da diversi anni dell'importanza di questa dimensione le evoluzioni del mercato del lavoro di quest'ultimo triennio sicuramente hanno amplificato la criticità di questi temi dalle great resignation alla difficoltà di far attraction e retention in particolare su certe famiglie professionali su certi ruoli certamente una politica di gestione del capitale umano efficace è come posso dire essenziale per garantire anche la sostenibilità di business e far vedere al mercato comunicare al mercato attraverso ad esempio l'inserimento di questa dimensione nei sistemi di incentivazione manageriale è anche questo un elemento importante di comunicazione di dimostrazione di impegno su questa dimensione come anticipava Elena facciamo una piccola digressione su questo tema perché lo troviamo molto importante gli investitori istituzionali sempre più guardano anche alle politiche di gestione del capitale umano nel momento in cui valutano le proprie scelte di investimento vi portiamo soltanto un esempio BlackRock BlackRock quando delinea le aspettative rispetto alle responsabilità del board naturalmente cita la responsabilità di identificazione e gestione dei rischi anche dei rischi legati alla sostenibilità e quando diciamo definisce la sfera social della sostenibilità fa specifico riferimento tra le altre cose al tema dello human capital management ma diciamo fa un passo ulteriore cioè spiega perché è fondamentale avere una strategia di human capital management efficace perché diciamo manager ingaggiati e diciamo fedeli all'azienda costituiscono un vantaggio competitivo di business rispetto ad altre aziende e quindi rappresentano un elemento di business sustainability e arrivano a diciamo elencare un pochino le tematiche che vanno a valutare nell'ambito dello human capital manager che sicuramente toccano tutta la tematica della supervisione e della gestione dei rischi da parte del board lato capital human capital le tematiche della DNA e le tematiche della salute e sicurezza certamente ma anche più in generale le tematiche afferenti alla gestione di tutto il cluster degli employees quindi l'engagement di tutti gli employees i temi della compensation dell'equità e pertanto è un elemento di estrema importanza diciamo la capacità di accogliere all'interno della spera est della sostenibilità tutta la dimensione di gestione del capitale umano e non diciamo delle viste parziali quindi probabilmente possiamo fare un po' di più da questo punto di vista adesso lascio per fornirvi delle indicazioni ancora più diciamo di dettaglio e di overview generale la parola Elena che ci porta più in profondità attraverso questo tema degli indicatori utilizzati negli schemi incentivanti del top management sì grazie Sara molto velocemente anche per consentire poi di avere una sessione di Q&A abbiamo ritenuto utile fornirvi un piccolo approfondimento sugli indicatori SG che più frequentemente sono riscontrati nelle scorecard dei sistemi di incentivazione del vertice aziendale guardando diversi ambiti geografici innanzitutto da una nostra ricerca condotta a livello europeo che ha coinvolto 200 grandi società è emerso che la metà di queste hanno almeno un indicatore di SG o nel piano incentivazione di breve o nel piano incentivazione di lungo periodo un'azienda su quattro prevede queste metriche sia nel breve che nel lungo periodo se guardiamo nello specifico gli indicatori che ottengono la sfera social quindi allo human capital vediamo una dinamica simile con quasi la metà delle aziende che presentano queste metriche nei sistemi o di breve o di lungo e un meno del 20% che li presentano in entrambi i piani abbiamo fatto poi un'ulteriore analisi analisi condotta sulle aziende Fuzzimib come senz'altro qualcuno di voi saprà ogni anno nel mese di giugno appena conclusa la stagione assembleare noi presentiamo tipicamente ai membri dei comitati di remunerazione nomine le evidenze principali sui trend delle politiche retributive e anche le statistiche relative ai compensi corrisposti nell'esercizio precedente e nell'ambito di questa ricca analisi forniamo anche una vista molto estensiva degli obiettivi che sono inclusi nelle scorecard del vertice aziendale e che sono o dovrebbero essere maggiormente rappresentativi dei pilastri delle priorità strategiche delle aziende quindi nell'ambito di questa analisi emerso che le aziende del Fuzzimib nell'ultimo triennio hanno aumentato in maniera molto significativa molto importante l'utilizzo di strumenti ESG nei sistemi incentivazione sia di breve che di lungo in particolare quasi la totalità delle aziende nel 2023 presenta obiettivi ESG o nei piani di incentivazione di breve o nei piani di incentivazione di lungo e quasi l'ottanta per cento di queste aziende invece li prevede in entrambi i piani gli obiettivi maggiormente ricorrenti nelle scorecard dei nostri amministratori delegati si riferiscono principalmente alla sfera ambientale che è molto presente sia nel breve che nel lungo periodo e poi ci sono obiettivi della sfera social che ricorrono anch'essi molto frequentemente e in particolare vediamo un'incidenza preponderante di obiettivi legati a temi di salute e sicurezza più che altro sui sistemi di incentivazione di breve periodo mentre ci sono gli obiettivi legati a diversity equity inclusion e più nello specifico relativi all'incremento della percentuale di donne nelle posizioni manageriali che ricorrono più frequentemente nei sistemi di incentivazione di lungo periodo vi vogliamo poi dare un overview anche di quello che succede in UK dove è stata svolta un'analisi sulle Fuzzi 350 dove è emerso che il 70% delle aziende include almeno un indicatore ESG nella scorecard dei propri amministratori delegati con una prevalenza di indicatori attinenti alla sfera people in particolare la sicurezza sul lavoro soprattutto per quel che attiene i sistemi incentivazioni di breve infine guardando oltreoceano dall'analisi del Sunderland Pours 500 emerge in maniera analoga rispetto a quello che abbiamo visto nel contesto nostrano che gli indicatori di human capital management vertono principalmente su temi di diversity equity e inclusion e più in particolare sulla rappresentatività di genere quindi sull'incremento della percentuale delle donne in posizioni manageriali se ci muoviamo alla slide successiva abbiamo riportato un focus su quanto visto con riferimento alle aziende italiane del Fuzzimib dove trovate la percentuale di indicatori che sono presenti nei piani di incentivazione di breve periodo che sono gli histogrammi in blu e nei piani di lungo periodo che sono gli histogrammi in rosso che abbiamo preferito per convenienza e per maggiore comprensione suddividere nelle tre anime ISG quindi environment social and governance abbiamo inserito a destra una quarta categoria di indicatori che attengono più sfere quindi non facilmente riconducibili a una delle tre anime di nuovo qui vediamo che i temi di salvaguardia dell'ambiente di riduzione delle emissioni di carbon neutrality sono prevalenti e sono utilizzati sia nel breve che nel lungo periodo mentre gli obiettivi più attinenti alla sfera social sono focalizzati in maniera più prioritaria su indicatori di gender balance quindi sull'aumento della rappresentatività di genere soprattutto nelle posizioni manageriali quindi al nostro punto di osservazione che è anche arricchito dalle discussioni che abbiamo frequentemente con i membri dei consigli di amministrazione con i membri dei comitati di remunerazione principalmente ci chiediamo se questi indicatori siano sufficientemente rappresentativi poi della strategia dello human capital management e se vanno nella direzione auspicata direi di poter assicurare una transizione culturale che consenta di integrare veramente la sostenibilità nel purpose aziendale nella strategia e anche nell'operatività dell'azienda di poter assicurare e anche di poter assicurare